solo di qua la abbiamo le centraline della luce come dall'altra parte quando viene l'acqua si allaga fino al ginocchio ci vogliono gli stivali da mare a me mi è saltata la luce non sapevo come andarla a attaccare perché c'era l'acqua fin qua qui loro all'inizio volevano venire a stuccare io ti farai toccare con mano come sono messi i ferri se non li mandavo via, gliela davano poi andavano via sono venuti e mi hanno detto si si a posto dopo è arrivato il muratore ciao siamo venuti a stuccare come stuccare? si facciamo un po' di intonaco no gli ho detto lascia stare che mi compiere l'hanno fatto puntellare e poi hanno chiamato uno strutturista che è venuto a fare una perizia ha detto come vanno fatti i lavori però loro qua vogliono smartellare col martello pneumatico secondo me non mi credo vincere ha addirittura un tubo delle fognature rotto che li scarca dentro il suo scantinato e lei si trova la popò proprio diciamo quindi tutta l'acqua che la fa lei mi la mandi ed entra nelle sotto e quindi